Questa storia che ha scegliuto questa via è troppo tarda e non si può tornare ci può trovare là sempre a mano di una via a due poter una mamma sta un buon sera, buon figlio sono tutto trato sti guaglioni miei zapi e pot trovare sempre a mano di una via chi si faccia roba posti da una polizia ma chi si non fa ne sono con necessità non va sempre a cercare ma prima d'asci da una moglie a un figlio che aspetta casa con una preghiera a Dio che può fare un rato non va da casa facciamo parte tutti sul sistema facciamo parte tutti sul sistema ma solo in dei quartieri sconsagrati ci può trovare sono guaglioni miei zapi ci 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 sono guaglioni miei zapi